Questo è il primo episodio di una piccola serie di video dove spiego come è fatto il mio impianto elettrico. Partiamo dai supercapacitori della Kilowatt Labs, modello Sirius. Questi una volta acquistati ve li danno completamente scarichi. È meglio ricaricarli la prima volta con un alimentatore adeguato. Nel mio caso ci ha pensato il rivenditore e me li ha forniti il suo voltaggio massimo che è di 13,5V. Quindi già che ve li consegnano completamente scarichi sapete che non si rovinano se li scaricate completamente. Una volta installati dovevo occuparmi della loro ricarica. Come vanno ricaricati questi supercapacitori? Gli deve essere fornito una corrente con un voltaggio massimo di 13,5V. Non servono curve di ricarica come nelle batterie chimiche e non serve neppure una volta carichi che hanno raggiunto i 13,5V. Una corrente di mantenimento. Semplicemente si forniscono 13,5V e una volta che loro hanno raggiunto i 13,5V si interrompe la ricarica. Cosa succede se gli date di più di 13,5V? Loro vanno in protezione. Vanno in protezione e per riattivarli si deve premere il tasto reset. Nel caso di scaricate, anche in quel caso lì, se andate sotto gli 11V, loro vanno in protezione. E dovete premere il tasto reset per riattivarli. Questo perché? Perché il loro range di utilizzo, dove vi danno tutta la loro capacità, è tra i 13,5V agli 11V. Quindi una volta che loro sono arrivati a 11V, voi avete ricevuto tutta la loro capacità. Non serve andare sotto. E hanno questa protezione che li mandano in blocco e dovete resettare per farli ripartire. Quindi cosa ho fatto per riuscire ad avere queste condizioni? Ho scelto dei prodotti con i parametri impostabili, dove ho potuto togliere i parametri per tutte le batterie chimiche e semplicemente avere un'uscita di 13,5V e una volta che loro hanno raggiunto 13,5V interrompere la ricarica. Per quanto riguarda la ricarica solare, ho scelto Victron Energy, un MPPT Smart Solar. Questo ho tolto tutti i parametri di ricarica delle batterie chimiche, gli ho detto di far uscire 13,5V e una volta che gli accumulatori sono a 13,5V di interrompere l'uscita di corrente. Sempre di Victron ho preso un DC DC Charger, un Orion TR Smart. Questo serve anche per le batterie a litio o le batterie a GM. Cosa fa? Praticamente la corrente, quando accendo il motore, la corrente che mi fa l'alternatore, mi va a ricaricare gli accumulatori. Nel caso delle batterie chimiche, questo fornisce una curva di ricarica adeguata. Nel mio caso non mi serviva la curva di ricarica, ma mi serviva semplicemente che da 14V e oltre che fornisce l'alternatore mi facesse un'uscita stabile a 13,5V. E questo è quello che fa lui. Una volta che loro hanno raggiunto i 13,5V interrompe. Poi ho preso un altro prodotto per il problema di non andare sotto gli 11V, altrimenti mi andava in protezione. Gli accumulatori. Quindi, eccolo qua. Questo è un Smart Battery Protect. Praticamente, la cosa bella di questo è che tu programmi, e io ho programmato che a 11V, lui stacca i carichi. Per chi non sa cosa sono i carichi, semplicemente sono tutti i dispositivi che consumano collegati. Il frigo, le luci, tutto quello che avete che consuma corrente. A quel punto lì, una volta che interviene, lui mi stacca e non mi funziona più l'impianto elettrico, perché ho staccato completamente e si stacca tutto. Però, ho impostato anche un'altra cosa, perché si può impostare anche quando riparte. Quando praticamente i miei accumulatori hanno raggiunto un determinato voltaggio che ho deciso, lui mi riattiva tutto l'impianto elettrico. E questa è una gran cosa. Quindi, quando ho l'impianto solare, o accendo il motore, mi ricarica i miei supercapacitori, raggiunto quel voltaggio lì, lui si riattiva e mi fa ripartire tutto l'impianto elettrico del camper. L'altra cosa interessante, direi indispensabile, di Victron Energy, è lo Smart Center. Questo ti permette di controllare i consumi di ampere che entrano ed escono dagli accumulatori. Di conseguenza puoi anche verificare ogni tuo dispositivo all'interno del camper quanto consuma. Ma un'altra cosa ancora più interessante per me, di Victron, è che questi dispositivi Bluetooth puoi metterli in collegamento fra di loro e quindi riescono a passarsi i dati uno con l'altro. Lo Smart Center, che è più preciso per rilevare il voltaggio degli accumulatori, glielo comunica allo Smart Solar. E questo è una gran cosa, e ve lo spiegherò nel prossimo video, quando vi parlerò di come ho fatto i cablaggi, dimensionamento dei cavi, eccetera. Quindi, alla prossima!